C'è un altro ragazzo molto bravo, lo vogliamo presentare Monica, perché... Arriva da una provincia meravigliosa che è quella di Siracusa d'estate, poi la Sicilia è più bella ancora se possibile. C'è qualche siciliano presente? Eh c'è, ma siete tantissimi! Lui arriva con un brano che si chiama Yalla, e per votarlo il numero è sempre lo stesso, 4883888 e il suo codice è festivalspazio02. Con noi Dave Monaco, vieni Dave, un applauso, vai, eccolo, pensavo di averti perso Dave, non ti serve, tengo io, non ti preoccupare. Signori, Dave Monaco con Yalla! Ascolta il tempo Un testimone vi racconta tutto quanto, viaggia lento, su navi cariche di giorni tormentati, su mare che divide solo uomini e terre di un mondo colorato. Distanze che non colmeremo, con odio ed intolleranze fra di noi, le navi adesso, colme di storie che riguardano su noi. E di vita trascorsa, i sogni realizzati e infranti per noi, navigano sulle coscienze, di uomini che non ne hanno avuti mai. E di vita trascorsa, i sogni realizzati e infranti per noi, con odio ed intolleranze fra di noi, con odio ed intolleranze fra di noi. E di vita trascorsa, i sogni realizzati e infranti per noi, con odio ed intolleranze fra di noi, con odio ed intolleranze fra di noi, con odio ed intolleranze fra di noi. E di vita trascorsa, i sogni realizzati e infranti per noi, con odio ed intolleranze fra di noi, con odio ed intolleranze fra di noi. E di vita trascorsa, i sogni realizzati e infranti per noi, con odio ed intolleranze fra di noi. E di vita trascorsa, i sogni realizzati e infranti per noi, con odio ed intolleranze fra di noi. E di vita trascorsa, i sogni realizzati e infranti per noi, con odio ed intolleranze fra di noi. Fate un applauso ai ragazzi, dai, fate un applauso ai ragazzi, molto bravi. Attenzione, uno, due, tre, vai con l'applauso. Ha affiazzennato, ma è arrivato il 76% per Dave Monaco.